Il ragusano d'op 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 almeno un paio di centinaia di migliaia di euro, se questo non è chiedere, allora, se è chiaro hanno il carbone bagnato, io non so cosa possiamo fare, però queste le cose le dico io, con l'aeroporto di Bernardo mi ha detto tu ce l'hai per partito preso, tu apposta ce l'hai, ragazzi, io parlavo dell'aeroporto prima ancora di Bernardo, prima ancora che ci fosse lui, prima ancora che ci fosse lui, quindi pensate, però se lo dice l'onorevole Campo credo che sia più credibile, vediamo cosa dice lei. Ma oggi c'è stato questo incontro con SAC, ci siamo sentiti in realtà un po' offesi e impotenti e ho fatto delle specifiche domande all'amministratore delegato, volevo sapere innanzitutto perché non sono stati fatti bandi, con quale criterio vengono scelte le compagnie aeree, a quale prezzo, quindi quali sono le proposte economiche che vengono fatte a queste compagnie aeree, a nessuna di queste domande poi c'è stata un'effettiva risposta, però abbiamo capito che bandi non se ne fanno perché ultimamente sono andati deserti, che scelgono direttamente loro le compagnie aeree e le destinazioni, nel contempo è stato chiesto ai sindaci del territorio di partecipare, cioè di rimpinguare le casse di SAC con l'obolo della tassa di soggiorno. Chiaramente noi non abbiamo voce in capitolo in questo territorio, quindi non capisco perché i sindaci che non possono interloquire con le compagnie aeree, non possono stabilire le politiche dei voli in Sicilia, debbero comunque contribuire economicamente. Vogliamo capire prima di tutto quali sono le strategie da comiso e per comiso, nessuna proposta in questo senso, soltanto richieste economiche, soltanto una visione a raggio cortissimo di continuare a sperare di far andare avanti l'aeroporto con dei fondi pubblici e delle risorse pubbliche. Chiaramente chiederemo anche al Presidente della Regione che faccia la sua parte, vogliamo chiarimenti anche con il Presidente Schifani, però senza una visione reale per quest'aeroporto che addirittura più e più volte è stato definito come un aeroporto che senza Catania non ha assolutamente nessuna speranza, questo non so se per disincentivare la voglia di affidarla a qualcun altro o se c'è la reale convinzione da parte loro che comiso non valga nulla, a questo punto noi chiediamo e vediamo come unica soluzione l'arrevoca della concessione da parte di SAC che si trovi un altro gestore che abbia una più lunga visione e delle proposte diverse. Chiaramente sono volate anche delle offese a livello personale perché io penso che si sia cercato di distogliere la reale attenzione perché ad oggi siamo stati in pochi a fare delle domande dirette e non abbiamo avuto risposte, quindi chiaramente si è cercata di distogliere l'attenzione mettendo in campo delle provocazioni su altre questioni, non siamo disposti chiaramente ad arretrare di un solo passo, l'aeroporto di Comiso è il nostro territorio, è il nostro sviluppo perché rappresenta il terzo aeroporto più importante della Sicilia per posizione geografica, in potenza ha delle possibilità di sviluppo altissime e non siamo disponibili ad essere utilizzati quando decide Catania come aeroporto di scorta per far atterrare i voli quando c'è l'eruzione dell'Etna o ancora non avere ben chiaro per quale motivo è stato sciolto questo accordo con Ryanair e abbiamo chiesto pertanto anche una commissione di indagine perché vogliamo vederci chiaro. E' stata molto dura l'onorevole Campo su questa vicenda, questo piccolo scontro con l'amministratore delegato della SAC che devo dire ha un atteggiamento un po' arrogante, nessuno capisce niente, loro sono gli unici bravi, giustamente lui è stato assessore, presidente, direttore, generale, ha fatto tutto quindi la sua grande esperienza non si può mettere in dubbio, però è anche vero che la sua esperienza si scontra con la realtà, questa struttura aeroportuale in pratica sta andando alla malora. Ora questi grandi amministratori che ha la SOAC, che ha la SAC in questo caso, dove sono finiti? Quindi è chiaro che la richiesta di dimissioni, la richiesta di lasciare l'aeroporto ad un'altra società, la richiesta di andarsene è una richiesta che il territorio fa, oltretutto dobbiamo dire che questa vicenda del chiedere i soldi ai cittadini non è che l'ho capita solo io, perché nella nota del commissario, che naturalmente è un uomo che cerca la pace, non vuole sbiscicciarsi con nessuno, in questa richiesta, in questo comunicato della provincia, dell'ex provincia, non c'è scritto questo fatto che invece sono venuti a chiedere i soldi della tassa di soggiorno e questa cosa mi dispiace perché lo stesso Nico Torrisi capisce che è riduttivo una grande società che chiede qualche migliaia di euro a questa provincia, non è una cosa possibile, rivolgano l'attenzione alla regione e glielo vadano a chiedere. Perché non sono stato solo io a capirlo, ve lo dimostro con questa intervista che è fatta con il sindaco di Ragusa, anche lui presente e tra l'altro il sindaco ha sentito come ho sentito io e c'è però qualcosa da dire perché lui stesso ha dichiarato di essere amareggiato per una parte della campagna elettorale. Sentiamo il signor Cassì. I nostri prodotti raccontano una storia meravigliosa, è la storia delle nostre famiglie, è la storia della nostra terra, la Sicilia. Torna da noi il sindaco di Ragusa Peppe Cassì per affrontare un paio di argomenti che ora diventano anche abbastanza scottanti. Il primo, caro sindaco, ci ha visto protagonisti stamattina perché è calda, arrostita e mangiata. Stamattina c'è stato questo incontro con l'aeroporto, io ne ho parlato ampiamente, c'è stato un intervento di Stefania Campo abbastanza duro contro Torrisi con il quale si sono contropigliati. Da sindaco di Ragusa che cosa ti è sembrato questo incontro? Intanto i sindaci hanno preso iniziativa, abbiamo chiesto al commissario libero consorzio di convocarci e insieme a noi e alla deputazione regionale di sentire dalla viva voce dei responsabili della SAC, società aeroporti Catania che sappiamo gestisce anche l'aeroporto di Comiso, cosa è successo, perché abbiamo perso improvvisamente da un giorno all'altro, si può dire, hanno dato un preavviso di 15 giorni, infatti per chi programma una vacanza da un giorno all'altro abbiamo perso tutti i voli in Ryanair su Comiso, ma soprattutto mi è sembrato evidente l'inaccettabilità del fatto, dal momento che poi scopriamo che i nostri voli, cioè quelli che dovevano atterrare a Comiso, dove che vanno? A Trapani, qualcosa non funziona, qualcuno deve darci le spiegazioni e la spiegazione che è venuta fuori oggi è che essendo la regione siciliana socia di maggioranza, forse quasi socia unica della società che gestisce l'aeroporto di Trapani, dice io lì devo ripionare ogni anno non so quanti milioni di Euro, lì ci mette non so quanti milioni, certamente tre volte o quattro volte quanto ce ne mette su Comiso, perché c'è una giustificazione anche giuridica, essendo socio e con questo meccanismo economico praticamente alimenta la società trapanese che dà soldi alla Ryanair, cioè allora lì troviamo i soldi da dare alla Ryanair per far atterrare i propri voli in quel territorio della Sicilia occidentale, qui non si fa la stessa maniera, siccome i soldi della regione non sono della regione, sono soldi anche nostri, vogliamo con te ragioni su questa cosa. Però c'è da dire per esempio che la regione avendo tutte le quote di Trapani ci mette il suo amministratore, lo sceglie lui, è come se fosse loro, poi è la SAC che comanda. Deve trovare però la regione tramite la SAC, tramite non so cosa, il modo per dare le stesse opportunità all'altro reporto piccolo della Sicilia, quello orientale, cioè quello di Comiso, perché altrimenti c'è una disparità di trattamento che sinceramente noi, responsabili amministrativi del territorio, non possiamo accettare. Noi verremo fuori, immagino, spero, in questo senso si è conclusa poi la riunione, una forte protesta verso le autorità regionali. Mi è sembrato di capire o ho sbagliato che sono venuti a chiedere un po' di soldi con la tassa di Giorgio. Sicuramente l'amministratore della SAC, Torrisi, non è la prima volta che lo fa, vorrebbe un maggiore coinvolgimento del territorio, nel senso che vorrebbe che il territorio partecipasse anche a queste spese, perché dice che tra i comuni traggono beneficio dai voli rainer che atterrano a Comiso, quindi i comuni dovete attraverso anche la tassa di soggiorno contribuire a questo obolo, a questa non so come si può chiamare, lo chiamo obolo per evitare di dire una brutta parola. Ci sono piccolissime comuniche, Giarratana, senza spese, salutando i miei figli di Giarratana. Con qualche soldo che possiamo mettere noi di Ragusa, ma altri non credo, io non credo neanche a dirla tutta che città come Scicli, Modica, che sono interessate da un'altra parte del territorio, sono più vicine al Siracusano, quindi loro tutto sommato questo problema lo vivono meno, lo vivono, lo vivono meno, ma non penso che siano interessate come invece molto interessata Ragusa, quindi su questo aspetto ne possiamo discutere, possiamo contribuire come Ragusa, se c'è qualcosa da fare nell'interesse dell'economia locale, vediamo cosa, a me sembra strano dare soldi direttamente a una compagnia aerea, mi sembra qualcosa veramente di poco conto, noi possiamo eventualmente prevedere una promozione pubblicitaria negli aeroporti internazionali, nazionali, a spese del comune, questo sì, possiamo farlo con la tassa di soggiorno, c'è una forma di promocommercializzazione del territorio, dare soldi a una compagnia aerea, non lo so, se vediamo, discutiamo, però con i nostri 100-200 mila Euro, che cosa può dare, risolviamo, anche perché non ci dimentichiamo che l'aeroporto, l'associazione di gestione è di una società, la SAC, che i soldi ce li ha, a 10 milioni di passaggieri a Catania, mettiamo da parte questo argomento Sindaco, allora oggi avete partecipato al ventesimo? Sì, ci sono tutti gli ordini e tutte le associazioni che si stanno scalerando l'ultima settimana arriverete con la lingua di fuori, incontri tra candidati, ci sta, voglio dire, è giusto, secondo me non è che poi se ne tragga molto, perché poi alla fine è difficile dire qualcosa di diverso tra un incontro e un altro, però gli ordini vogliono avere un ruolo, vogliono partecipare, allora sono certo che questo incontro ha avuto come tema principale il piano regolatore, l'assetto di questa città. Sì, 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 anche, eravamo agli ordini degli ingegneri, quindi certamente il tema dell'urbanistica, il piano regolatore è venuto fuori, ma certamente non sono venute fuori in queste occasioni le polemiche, diciamo, che sono venute fuori, che sono nate in questi giorni, in particolare quello che è stato detto, molto grave, nei miei confronti da parte di un leader, di un movimento politico, l'ingegnere Tumino, del movimento Insieme, che ha più riprese, ma negli ultimi giorni sta rappresentando una situazione che secondo me non sta in piedi, non secondo me, secondo le carte. Io posso dire, sono qui anche per questo, ti ringrazio per darmi la possibilità. Cioè lui dice che c'è stato un'aggiunta in cui il sindaco di Ragusa ha partecipato. Lui dice delle cose, intanto il sindaco di Ragusa in occasione di una riunione di giunta nella quale si assumono deliberazioni che riguarda il PRG, deve astenersi dal momento che ci sono dei terreni che sono di proprietà di un parente entro il quarto grado. Allora, la delibera di giunta che ho portato così a scanso di qui, ma per oggetto la presa d'atto degli elaborati del progetto del nuovo piano regolatore generale è finita la successiva adozione da parte del Consiglio Comunale. Il PRG è un atto di competenza esclusiva del Consiglio Comunale. Sono i consiglieri comunali che lo votano e lo adottano. Allora, la presa d'atto non è altro che una constatazione di un qualcosa che compete ad altri uffici. Noi con la presa d'atto adottiamo una delibera che non ha nessuna rilevanza ai fini dell'articolo 42-48 del tu e del testo degli enti locali secondo comma dove è scritto che l'amministratore si deve astenere. Tanto è vero, vedi direttore, che poi le cose... che c'è una sentenza del TAR, quindi c'è un'opinione univoca del Tribunale Amministrativo della Magistratura che dice che appunto il provvedimento di presa d'atto non costituisce determinazione amministrativa impugnabile, atteso che si tratta di mera attestazione dell'esistenza di un provvedimento che rientra nella competenza di altri. Quindi quella mia partecipazione alla Giunta dove si prende atto, quindi si constata l'esistenza di questo documento non è impugnabile, infatti non è stata impugnata, non è illegittima, infatti non è stata impugnata come dice la giurisprudenza e semplicemente il modo attraverso il quale noi intendiamo dare visione a tutti gli elaborati perché viene pubblicata l'atto di Giunta, a tutti gli elaborati che poi sono oggetto a discussione. Quindi scusa, non è una delibera di Giunta che approva il piano regolatore che poi andrà in Consiglio Comunale. No, il Sindaco e la Giunta non partecipano all'iter deliberativo e di adozione del PRG. Ma c'è una prima fase però. No, sono esclusi, non ne fanno parte. Tanto è vero che quest'atto può anche non andare in Giunta proprio perché non è previsto. Noi semplicemente con la presa d'atto pubblichiamo gli elaborati, ma nell'iter deliberativo del PRG l'unica competenza ce l'hanno gli uffici che lo predispongono e noi l'abbiamo predisposto con i nostri uffici tecnici, con la collaborazione dell'impartimento urbanistico dell'Università di Catania e il Consiglio Comunale che poi lo deve adottare. Tanto è vero che i consiglieri comunali nel momento in cui si siedono prima della riunione dell'adozione del PRG devono dichiarare sotto la propria responsabilità che non hanno motivi di incompatibilità perché non hanno parentela entro il quarto legale eccetera. Lo devono dire per iscritto mentre il nostro atto è giunta. Allora pensate che il sindaco o gli assessori che erano presenti dovevano andare a vedere chi erano i proprietari di tutti i terreni che hanno subito attraverso questo atto, avrebbero subito, perché ancora il PRG non è che c'è il PRG, è un atto che sarà portato all'attenzione del prossimo Consiglio Comunale. Dovamo sapere chi erano i proprietari di tutti questi terreni, ma stiamo scherzando, questa è una cosa folle. Allora chi dice oggi a pochi mesi, a pochi giorni ormai dalle elezioni, a distanza quindi da ottobre scorso è successa questa delibera di giunta, chi oggi a una settimana dell'elezione porta fuori questo argomento, è chiaro direttore che lo fa per finalità esclusivamente elettorali. Tra l'altro, ma è così, avrebbe avuto tutto il tempo per farlo prima, tra l'altro la stessa persona di cui stiamo parlando è quella che pochi, non più di qualche mese fa, due o tre mesi fa, aveva chiesto al sottoscritto di diventare il candidato della coalizione di centrodestra, quindi da questo si vince che cosa? Che è finto, è tutta una cosa finta, cioè lui adesso la tira fuori questa cosa per fare un po' di polverone, perché adesso a pochi giorni dell'elezione insino a un dubbio, tra l'altro in maniera anche molto caluniosa e grave, perché cosa dice lui? Che il sindaco dovrebbe pensare all'interesse della comunità, no a quello dei propri familiari, ma questa è una formazione gravissima, questa è una formazione caluniosa, è una cosa inaccettabile, lui lo sa che non è così, perché appunto se no non mi avrebbe offerto di diventare il candidato, lui avrebbe offerto al sindaco Cassini di essere il candidato del centrodestra, abbiamo fatto riunioni alla presenza di tantissime persone, se vuoi smentirmi, ma non lo farò, era una richiesta comunque normale, una richiesta normale, ma non fai una richiesta del genere a chi pensi che possa avere commesso una delle cose più gravi che un amministratore può compiere, cioè fare qualcosa per fare gli interessi di un familiare, è una cosa inaudita, allora io dico questo all'ingegnere Tumino, purtroppo ha dato una dimostrazione, un esempio di come la politica può scendere in basso, lui dice di averlo fatto per tirar fuori la verità, si pone come paladino della verità, lui l'ha fatto esclusivamente per fini elettorali e ha detto una cosa, adesso entriamo nel merito se vuoi, anzi ci entriamo senz'altro, ha detto una cosa, che sa essere totalmente fuori dalla mia portata, quando lui parla di terreni di un familiare, io poi sono andato a vedere, ripeto, non posso dire, c'è una zia, allora pensa direttore, con quella famiglia, la mia famiglia, adesso per la cronaca lo dico, esiste una lita da quando sono nati, tu pensa di che stiamo parlando, c'è una controversa che si è sfociata in diverse contenzioni giudiziarie, quindi è proprio questa cosa, è Maurizio Tubino, questa cosa è l'esame, quindi pensate io posso aver fatto una cosa del genere, allora è soltanto una fine età elettorale, è un esempio di brutta politica, brutta politica, tu ti poni come paladino della verità, dici che vuoi dire la verità a pochi giorni dall'elezione, lo dice perché vuoi gettare discredito nel sindaco in carica che si ricandida, vuoi fare in modo che passi nell'opinione pubblica un'idea di un sindaco che invece di pensare al bene della comunità pensa al bene personale, che è una cosa squallida, tristissima per me, anche mortificante. Certo, mi chiedo una cosa però sindaco, Tumino ci ha detto che ha fatto un esposto alla magistratura. Ma lui l'ha fatto, l'esposto alla magistratura. Ma sicuramente non c'è un avvocato che lo consiglia. No scusami, iniziativa pretestosa, lui fa questo esposto all'amministratura, quando io dico in un comunicato se c'è qualcosa di illecito denunciatelo, se non l'avete denunciato finora, vuol dire che non è illecito, vuol dire che state facendo propaganda, scrivo questa cosa, lui l'indomani mattina, cioè ieri, praticamente cosa fa? L'esposto alla procura. Un'iniziativa giuridica ridicola, ridicola. L'esposto alla procura di che? Ti ho dimostrato che la presa d'atto che abbiamo approvato in giunta non è un atto illegittimo, non è nulla, è una constatazione perché il sindaco non partecipa alla formazione e all'approvazione e all'adozione del piano regolatore generale. Quindi quell'iniziativa giuridica è semplicemente fatta per... Il PRG è stato approvato dall'aggiunta, non viene approvato. Ma non è così. Ma io sono d'accordo, ho sempre pensato che prima il PRG viene approvato dall'aggiunta e poi va in consiglio. Non è così. Ma io dico, va bene. Infatti il segretario generale che presiede le riunioni di giunta non è che ha chiesto ai presenti, scusate, stiamo approvando, stiamo parlando del PRG. Chi è incompatibile? A quel punto tutti ci saremmo messi. No, momento, vediamo dove sono questi terreni, che succede, chi è proprietario. Io non è che posso sapere chi sono i proprietari, no, non è che posso sapere di tutti i miei parenti fino al quarto grado quali proprietari immobiliari hanno. Ma come faccio a sapere? Un quarto grado cosa vuol dire? Una lontana zia? Una lontana zia perché è quarto grado, anche una zia di primo grado è un parente di quarto grado, si calcola dal capostipite, poi si c'è un criterio. C'era un errore di quarto grado, era entro il quarto grado. Ora, io ho scoperto dopo che c'è effettivamente una zia, un'attrice di terreno, tra l'altro in un ambito, diciamo, in un contesto territoriale dove effettivamente noi stiamo come indirizzo politico, vorremmo che si sviluppasse un'attività ricettiva, perché? Maria Irrausa, allora vogliamo che i turisti arrivino più numerosi a Maria Irrausa oppure no? Se vogliamo questo dobbiamo avere gli alberghi, se vogliamo avere gli alberghi, se vogliamo avere gli alberghi, dove fare i riposti, dove realizzarli questi alberghi, allora se c'è tutta una striscia di terreno a ridosso dell'abitato che noi come indirizzo diciamo, beh questo sarebbe buono che qui venissero gli alberghi, come si fa da questo indirizzo politico che poi si trasforma in un atto di, diciamo, in elaborati tecnici a accusare il sindaco perché c'è una piccola striscia, adesso non lo so neanche neanche dove è ubicata questa striscia di terreno e appartiene a una zia, allora io dico all'ingegnere Tumino, per favore non scadiamo a questo, ma soprattutto non ergerti a paladino della verità, perché stai facendo, hai fatto, hai preso un'iniziativa meramente elettorale e mi dispiace, e mi dispiace perché stai cercando di infangare un avversario politico che fino a pochi mesi fa consideravi la persona più adatta per ricoprire il ruolo di sindaco, questa cosa qui, mi dispiace, è un pessimo esempio, è un esempio di politica mediocre, lo posso dire. Sì sindaco, è chiaro come si dice sempre, tu, non si può fare queste cose in campagna attuale, ma è amore, in politica, in guerra si può fare tutto. Però c'è un modo e un modo, l'intenda della politica, lei per forza la politica deve mostrare sempre il lato deteriore di sé, ci sono anche altri aspetti, diciamo le cose che vogliamo fare nella città nel prossimo futuro, parliamo di questo, io noto direttore che sono in questo momento oggetto ovviamente di attacchi, ma ci sta, però se alcuni candidati soprattutto in particolare non perdono occasione di parlare del sindaco uscente, io sto cercando di parlare della città, questa è la differenza, non parlo di un'altra persona, parlo Tu non puoi parlare del tuo avversario, ma io potrei dirlo, invece tu sei l'avversario Ma io potrei dirle, non è vero che non potrei parlare, io potrei dire delle cose, certo Voglio dire, tu non hai un avversario che è da abbattere perché è quello che vince, siccome probabilmente tu hai una certa... Grazie per questa cosa, forse è quello che pensano i miei avversari E' chiaro che l'uscente ha un vantaggio... Allora direttore, anche questa, sfatiamo questa cosa... A meno che non è a qualche sindaco... No, sfatiamo questa cosa, l'uscente ha un vantaggio, si è operato bene, perché l'uscente se è operato male, se non ha fatto niente di buono, l'uscente, credimi, parte ultimo... Posso dire una cattiveria? No, se riguarda me no No, perché anche se uno non ha fatto tanto, alla fine può sembrare che ha fatto bene Ma che fece? Ma che fece il rimale? Allora, no, anche questa roba qui che io avrei comunicato bene, perché adesso sta passando il messaggio Sto comunicando bene, ma se io comunico una cosa, se io comunico che si è aperto un cantiere se comunico che un cantiere si è concluso, se comunico che è arrivato un finanziamento e faccio vedere delle immagini, la gente quando legge il comunicato esce in strada e va a vedere se quella cosa corrisponde alla verità oppure no Ma questo è più che giusto, l'importante è che poi quel cantiere si finisca Ma tutto quello che fa un sindaco è verificabile Certo Tutto quello che è verificabile, se io dico una cosa è verificabile se io dico che sono 120 opere pubbliche in città qualcuno mi può smentire se vuole, ma non lo fa perché è la verità la verità prevale sulla propaganda, questa è la verità vera Rude è bravo, i russi dicono Rude è bravo No, prevale sulla propaganda, quindi poi i tempi di alcune opere si allungano ma signori miei, ma stiamo parlando di opere pubbliche Stiamo parlando di opere pubbliche il cui tempo medio in Italia come quelle, non so, per esempio il teatro, visto che si parla del teatro, lo scalomerci c'è valore di 3, 4, 5, 6 milioni in Italia il valore medio, la durata media supera la durata del mandato di un sindaco Ora io queste cose non è che le ho iniziate il primo giorno che sono arrivato sono arrivato, ci siamo ambientati, abbiamo visto le cose, abbiamo preso finanziamenti al secondo, terzo anno, abbiamo iniziato le cose è chiaro che queste cose avranno bisogno di un certo corso, di un certo tempo ma stiamo andando in quella direzione, credimi, direttore della città si sta trasformando e i ragusani lo hanno visto, lo hanno capito e sarà il caso che dicano, oh vero è e ci mettono una X va beh dai sindaco avremo l'ultima settimana, magari ci incontriamo un'altra volta per poter fare la conclusione di tutta questa cosa vedo che il sindaco ha voluto chiarire questo problema che certo sarebbe stato molto delicato stanno condividendo dovunque, sai qua è partita la tantana molto delicato, certo quindi ognuno giustamente fa solo perché poi dico è calunnia se uno mi dice che io ho pensato all'interesse personale è calunnia, quindi attenzione a dirlo e a condividerlo e a divulgarlo, perché chi divulga non è che è meno responsabile di chi dice una cosa che costituisce il reato se costituisce il reato, io non mi sto dicendo che fare faremo valutazioni con serenità, guarda mi vedi sono soridente e sono molto sereno però un po' amareggiato sì bene, male grazie, grazie Peppe Cassi andiamo avanti con il nostro telegiornale for the mustang bene, avete sentito il senato che in verità ha sentito quello che ho sentito io cioè il fatto della richiesta economica da parte del presidente dell'amministratore delegato della SAC che ha detto dateci soldi siamo accomviso però dateci soldi e il presidente dice allo stesso modo anche se giustamente dice io sarei disposto ma dobbiamo capire come vanno veramente le cose nella intervista, diciamo nella parte che riguarda con l'ingegnere Tumino lui ha detto che sarebbe stato invitato a fare il candidato del centro-destra ora il centro-destra ha un altro candidato vediamo la manifestazione che c'è stata oggi pomeriggio al Mediterraneo ecco la vedete presente Giovanni Donzelli che è il responsabile degli enti locali del governo della Meroni molta gente come sempre accade quando si fa che ha imbadito la vicinanza del governo centrale della Meroni che ha incontrato qualche giorno fa Giovanni Cultrera e quindi se, dice Ragusa, riuscirà ad avere come sindaco Cultrera state sicuri ci sarà un rapporto prioritario un rapporto certamente migliore per le difficoltà che possono avere le città come Ragusa quindi un applausi a scena aperta, molta soddisfazione noi abbiamo sentito sia Donzelli che il candidato al sindaco Giovanni Cultrera sentiamo una giornata importante, importante per Ragusa, importante per Siracusa, per tutta la Sicilia stiamo andando a portare sempre di più il buon governo nei territori lo stesso buon governo che abbiamo a livello nazionale con Giorgia Meloni arriverà in tutti i territori della Sicilia oggi ha parlato l'importanza di avere il governo a fianco di una nostra situazione certamente sì perché è un governo che è a fianco comunque tutte le amministrazioni ma nella concretezza, nella quotidianità la possibilità che ha Giovanni di poter chiamare i ministri, i sottosegretari a affrontare direttamente di persona i temi è una marcia in più per la città di Ragusa che non deve essere sprecata e persa altra importante visita oggi a Ragusa ancora una volta testimonianza della vicinanza della grande vicinanza del governo nazionale al nostro territorio alla nostra coalizione e alla mia candidatura oggi abbiamo avuto Giovanni Donzelli responsabile degli enti locali di Fratelli d'Italia persona molto vicina a Giorgia Meloni e mi ha fatto enormemente piacere sentire dalla sua bocca che il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è rimasta colpita dalle mie parole qualche giorno fa quando ci siamo incontrati a Roma e che ha garantito e ha ripetuto grande vicinanza al nostro territorio sempre pronta ad ascoltare le esigenze dei ragusani la politica quella con la P maiuscola è fondamentale per continuare a governare bene così come stiamo governando a Roma stiamo governando la Sicilia e speriamo presto di poter governare Ragusa perché ne ha davvero bisogno e noi siamo pronti a farlo avete dunque sentito Giovanni Donzelli ha detto che il governo nazionale è molto vicino a Ragusa e che Giorgia Meloni che Coltrella ha incontrato a Roma farà di tutto per essere vicino alla nostra città come vedete c'era a fianco il senatore Salemi il senatore Salemi è stato chiamato a far parte della commissione antimafia è un incarico importante e prestigioso sapete cosa vuol dire commissione antimafia in Sicilia ed è anche molto delicato come compito è giusto che ci sia un'attenzione particolare perché noi magari ne subiamo meno le pressioni da parte della mafia almeno così sembra in altre aree della Sicilia è ben diverso sentiamo Salemi sulla sua nomina nella commissione antimafia la nomina componente della commissione nazionale antimafia è una nomina che mi rende orgoglioso uno perché ho cominciato a fare politica negli anni 90 subito dopo le stragi di Capaci e Piede Amelio per me poter difendere la mia terra e capire cosa accade nella mia terra a causa delle situazioni criminali e mafiose è molto importante è un grande momento per me è un grande momento per la mia comunità quella di Vittoria che cosa c'è stato dietro lo scioglimento di Vittoria per cercare di dare verità a una pagina molto nera per quanto riguarda la città di Vittoria e poi Ragusa questa campagna elettorale importante con Giovanni Furtriere che è sempre in recupero sono sicuro che andrà a ballottaggio sono sicuro che vincerà le elezioni complimenti anche al senatore Salemi perché questo suo incarico è prestigioso molto delicato e insomma è davvero poi lui è un avvocato sono persone che conoscono la legge e serve proprio questo spostiamoci a Ibla al teatro Donna Fugata era previsto anzi si è svolto l'incontro fra i simpatizzanti di Demos e comunque quelli che fanno parte dell'area di Riccardo Schirinà con l'onorevole Paolo Ciani che è il segretario nazionale di Demos è venuto a Ragusa per appoggiare chiaramente la candidatura della Perricone che è poi la moglie di Tonino che è candidata nella lista Generazione la vedete in questa immagine e poi anche per parlare di tante cose che fanno riferimento alla politica più evoluta di questi tempi siccome noi abbiamo avuto la possibilità di invitare in studio Paolo Ciani ecco l'intervista dunque come vedete in studio con noi c'è l'onorevole Paolo Ciani che è il segretario nazionale di Demos a Ragusa per qualche appuntamento uno importante a Ibla con coloro che fanno parte della lista che appoggia il candidato a sindaco Riccardo Schirinà la lista Demos Generazione allora onorevole Ciani a Ragusa sì, certo campagna elettorale ma cosa dobbiamo dire alla gente? ma innanzitutto dobbiamo dire che il centro dell'isola non è lontano dal cuore del paese non è lontano dalla capitale d'Italia mi fa piacere essere qui perché qui ho degli amici sicuramente gli amici di Generazione Demos Rosaria Verricone Tonino Solarino gli amici che primi qui in città hanno sposato la causa di Democrazia Solidale Demos che da sempre mi parlano anche di questo territorio dei suoi pregi delle sue bellezze ma anche dei suoi problemi ne cito uno tra gli altri di questo tempo quello dell'aeroporto e avere anche delle persone attente a questi territori in Parlamento può essere comunque un aiuto e una mano peraltro persone disinteressate perché non essendo state elette qui non lo fanno per un problema meramente elettorale ma per far sviluppare e progredire un territorio ma Demos alla fine cos'è? un'escrescenza del PD una forma di pensiero diversa dall'area di sinistra perché voi siete nell'area progressista di sinistra noi siamo nel diciamo nel campo della coalizione del centro-sinistra non siamo una corrente del Partito Democratico siamo alleati spesso del Partito Democratico e siamo diciamo una realtà che è nata da poco che cresce dal basso che vuole essere espressione di una grande cultura italiana che è quella del cattolicesimo democratico del cristianesimo sociale che spesso in politica ha avuto delle sue espressioni soprattutto in un tempo come questo in cui tanti nostri concittadini non si riconoscono più nei partiti e in una proposta politica vogliamo essere una proposta che mette in campo persone di valore spesso anche civiche quindi non diciamo già appartenenti al mondo politico talvolta persone che hanno fatto politica ma che hanno perso passione e slancio per dire che la politica può essere davvero occuparsi del bene comune e non soltanto un dibattito tra prime donne o prime uomini come spesso accade ma anche la scelta di occuparsi del bene comune innanzitutto il bene comune è però una entità molto diciamo variegata tutto è bene comune io so per esempio che voi vi siete molto impegnati nel campo dei migranti però noi qui abbiamo un fenomeno molto evidente e forse sai bisogna capire come si deve affrontare ci sono la nostra provincia di cui metà degli abitanti vengono da fuori allora lei dice che il bene comune è qualcosa di astratto forse è vero in realtà per noi è molto concreto cioè è innanzitutto pensare che uno non fa politica per il successo personale non fa politica per guadagnarci lui perché quasi tutti noi abbiamo un impegno un lavoro le nostre famiglie le nostre altre associative ma vogliamo occuparci del bene della collettività lei citava il tema dei migranti con cui i migranti possono arrivare nel nostro questo senza dubbio è una follia e quindi anche poi la gestione di quello che non è regolato passa attraverso l'immigrazione irregolare e tutte le conseguenze che ne derivano noi crediamo che gli spostamenti di migranti in un'epoca come la nostra siano irreversibili cioè non li possiamo fermare non si può fermare il mare con un cucchiaio diciamo ma vanno regolati e quindi per esempio fare accordi con i paesi di emigrazione per un'immigrazione regolare mi ha colpito recentemente l'Italia ha fatto un decreto flussi in cui ha previsto l'ingresso di 84 mila immigrati nelle prime due ore le aziende hanno chiesto 214 mila immigrati e c'è qualcosa che non torna evidentemente l'Italia che è anche un paese che invecchia che è anche un paese che ha aree spopolate dovrebbe gestire meno ideologicamente questo tema ma anche in maniera mi verrebbe da dire più egoistica io direi più intelligente cioè a vantaggio di tutti beh certo magari uno le cose le vede da fuori poi tante volte qua vicino se uno va a vedere gli hot spot quello che accade quando sbarcano tutte queste cose è una situazione e poi un'altra cosa qui bisognerà pensarci ci sono delle scuole dove la minoranza è quella italiana questo questo guardi accade è un bene ma no accade anche adesso nelle realtà attenzione io non è che sto facendo bene sto parlando della realtà certo purtroppo dal mio dal nostro punto di vista accade in alcune città anche a causa di riforme della scuola un po' strane per cui l'autonomia scolastica che permette alle scuole di rifiutare i bambini e quindi poi si creano scuole di serie A e di serie B in cui questo è il rischio vero questo è un rischio vero peraltro però in un paese in cui io l'ho visto anche in molte realtà siciliane soprattutto i bambini sono i primi ad essersi rapidamente integrati cioè è la grande forza anche di ma infatti dobbiamo lavorare su questo perché poi questi ragazzi non sanno la lingua quindi dobbiamo fare in modo che capiscono bene la lingua per crescere tutti insieme guardi io ho un'esperienza molto virtuosa da questo punto di vista lei sa che da qualche anno in Italia sono partiti questo fenomeno dei corridoi umanitari cioè sponsorship private che hanno permesso a persone in particolare vulnerabilità di arrivare in Italia però regolarmente ecco queste realtà che poi sono realtà spesso del mondo cattolico la comunità di Sant'Egidio la Caritas eccetera fanno arrivare queste famiglie immediatamente iscrivono i bambini a scuola fanno la lingua agli adulti in pochissimo tempo trovano lavoro e nel tempo di un anno queste sono famiglie bisogna fare questo bisogna fare questo allora l'ultima cosa come può incidere dunque Demos in una città come Ragusa perché metti caso che vingono le elezioni io innanzitutto me lo auguro e sono qui io lo dico a tutti in questi casi mi sembra e sono qui perché ne abbiamo tutti qua in studio quindi io credo e spero sotto vari punti di vista e ne sottolineo due sicuramente uno l'attenzione più fragili lei ha citato il tema dei migranti ma per esempio a noi stanno molto a cuore il tema degli anziani il tema delle persone con disabilità perché abbiamo diciamo una piccola ma grande esperienza che lì dove una città e una società risponde ai bisogni dei più fragili è una società migliore per tutti e poi noi siamo convinti che dobbiamo recuperare un senso di comunità cioè il nostro tempo vive troppo di individualismi e di solitudini e noi dobbiamo invece rimettere insieme le persone per farle vivere meglio e la vostra candidata Rosaria Perricone e Rosaria Perricone incarna diciamo pienamente questo conosciamo bene questo 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 spirito e l'altro che è sempre incarnato direi bene da Rosaria Perricone è il tema della cultura cioè la politica non può vivere senza la cultura perché è una politica asfittica è una politica di breve respiro e quindi noi vogliamo mettere in campo delle proposte serie incarnate da persone che le hanno vissute nella loro vita e che agli occhi dei loro cittadini sono persone credibili grazie allora l'onorevole Paolo Ciani perché abbiamo parlato di temi interessanti e ormai siamo a sette giorni dalle elezioni e magari una spintarella a qualcuno che se lo meta di supportare assolutamente grazie grazie a l'onorevole andiamo avanti a tutti i giornali eccoci amici ben trovati questa sera con estremo piacere ho un ospite di San Cataldo andiamo a sentire i partner allora signor si inaugura si riapre questo luogo nel centro nel cuore della città avremo la pagina la pronota di questa sera anche la settimana che trascorsa è stata una settimana interessante dal punto di vista politico dunque bella intervista quella con l'onorevole Ciani e andiamo a chiudere il nostro telegiornale intanto vi ricordo che lunedì ci sarà questo incontro per parlare della Ragusa Catania la Ragusa Catania è una realtà ormai tangibilissima quindi speriamo che si riesca davvero a partire ma questa conferenza è la presentazione di tutti i lavori quindi dovrebbe essere una cosa molto buona poi dai siamo stati tanti anni speriamo di davvero poterlo vedere come le tante altre cose infrastrutturali che sono in itinere nel nostro paese chiudo con un servizio della nostra Teresa Guarnuccio che è andata a scuola alla Crispi per seguire un concorso di chitarra che si è svolto in memoria di un professore di musica con questo vi ringrazio per la cortessa attenzione ci vedremo con le prossime edizioni e buon weekend a tutti istituto comprensivo statale Francesco Crispi di Ragusa siamo con il dirigente la professoressa dottoressa Melegrazia Carfi prima rassegna chitaristica internazionale Valerio Battaglia abbiamo conosciuto abbiamo avuto l'onore e il piacere di conoscere uno straordinario insegnante una persona straordinaria come Valerio Battaglia che è mancata poco tempo fa una persona straordinaria un anno fa e allora Preside insegnava qui insegnava in questa scuola da più di un ventennio e lo ricordiamo non solo come un musicista raffinato conosciuto nell'ambiente degli artisti ma anche come un bravissimo professore perché riusciva a trasmettere ai suoi alunni la passione per la musica e in tanti lo hanno pianto perché gli erano affezionati tutti noi eravamo affezionati a Valerio e la famiglia di Valerio ha pensato bene di dedicargli una rassegna chitarristica per solisti e per ensemble di chitarre Preside i ragazzi che abbiamo ascoltato poco fa erano suoi alunni? Questi erano nostri alunni ma ieri nella prima giornata ci sono stati alunni della Berlinguer della Quasimodo oggi ci saranno alunni dell'istituto comprensivo Verga di Comiso e ieri ancora da Catania sono arrivati dal liceo Colonna quattro chitarristi quanto amore c'è nella musica la musica va oltre il tempo e lo spazio non ha confini e ci appassiona tutti l'importante è avere dei bravi maestri come è stato Valerio che riescono a trasmettere proprio questo amore per la musica il direttore artistico di questa prima rassegna chitarristica internazionale proprio organizzata dall'istituto comprensivo a indirizzo musicale Francesco Crispi è il professor Massimo Martinez allora lei ha conosciuto vent'anni fa il professore Battaglia Valerio ci vuole dire qualche tratto della personalità di questo docente che ahimè è mancato allora Valerio oltre ad essere un ottimo musicista l'ho sempre ammirato come chitarrista era una persona veramente con un grande cuore sempre disponibile sempre con idee per fare per organizzare tante cose anche organizzato per esempio un anno ha fatto un'orchestra di chitarra dove appunto mi ha coinvolto anche quindi abbiamo fatto dei concerti avete legato immediatamente sì 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 ma anche perché altro fortunatamente abbiamo tutte e due dei caratteri abbastanza miti dire così e comunque vabbè avevamo anche un modo di di vedere le cose molto simili quindi ci siamo trovati sotto tanti aspetti d'accordo ecco c'era una frase che magari lui diceva spesso che lei è rimasta impressa non mi ricordo però lui è indimenticabile perché era una persona appunto un professionista serio certo no senz'altro poi noi ci siamo allontanati un pochettino perché io ho insegnato a Modica mentre appunto lui è sempre stato qua alla Crispi ci siamo rincontrati proprio lo stesso anno in cui è venuto a mancare questo siamo stati colleghi per sei mesi insomma poi è arrivata la triste notizia insomma questo qua professore lei è un professore di chitarra mi diceva ha organizzato questo festival insieme anche in collaborazione intanto con la famiglia la preside e comunque anche con l'aiuto degli altri colleghi di strumento la scuola ha un doppio corso di strumento abbiamo appunto due corsi di chitarra percussioni flauto violino clarinetto e due corsi di pianoforte chiaramente la maggior parte dei colleghi conoscono Valerio da sempre alcuni hanno iniziato insieme il percorso scolastico assolutamente sì quindi insomma ci è sembrato doveroso fare qualcosa per ricordarlo e speriamo di continuare per mantenere sempre vivo il suo ricordo peraltro il respiro a livello internazionale di questo festival di questa rassegna chitaristica e avete avuto già molti molti iscritti sì devo dire che già come prima volta è andato benissimo ma questo io lo vedo come un'occasione chiaramente che parte dall'idea di ricordare Valerio però è anche un modo per accomunare gli altri colleghi di chitarra del territorio quindi vabbè sono venuti anche da fuori provincia la musica unisce assolutamente sì quindi queste sono delle occasioni importanti proprio per creare gruppo insomma per creare movimento anche all'interno della città di chitarra di chitarra di chitarra In collaborazione con Madonna di Campiglio, Val Sugana Cari amici e telespettatori, benvenuti da Floriano Maboni al consueto appuntamento settimanale con Sportador.tv Il canale televisivo tutto dedicato al mondo dello sport e del turismo, puntata questa tutta dedicata al triatlo, triplice disciplina, nuoto ciclismo e corsa Siamo sul lago di Caldaro in Alto Adige per parlare della 34esima edizione del triatlo internazionale del lago di Caldaro Il lago di Caldaro è veramente una perla del turismo italiano, pensate a un lago caldissimo a maggio 19 gradi Quindi ideale per nuotare i 1500 metri della frazione a nuoto, poi 40 chilometri in bicicletta fra i vigneti e i meleti del Alto Adige Poi gara conclusiva, parte finale, 10 chilometri di corsa, quindi triatlo olimpico, una chicca, una rarità veramente dello sport italiano Che noi andiamo a raccontarvi, 34esima edizione del triatlo internazionale del lago di Caldaro Venite con noi! Sabato 6 maggio il lago di Caldaro in Alto Adige si è trasformato in una palestra a cielo aperto Ospitando il classico triatlon lago di Caldaro che ha premiato l'atleta più completa e rapida a terminare le tre imprese a nuote